Personale del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni Veneto ha portato a termine una complessa e articolata attività di indagine mirata al contrasto della pedopornografia online individuando dieci soggetti residenti nel territorio italiano. L'attività è nata dalla comunicazione trasmessa dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che aveva segnalato numerosi utenti dediti allo scambio di contenuti pedopornografici sul servizio di messaggistica KIC. Le conseguenti attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia hanno consentito di identificare le persone coinvolte. Individuati dieci soggetti tra cui un minorenne residenti in diverse regioni italiane che si sono procurati consapevolmente e hanno ricevuto sulla piattaforma materiale illecito. Sono seguite numerose perquisizioni in varie province italiane da nord a sud. Le attività di perquisizione anche informatica effettuate da personale della specialità e coordinate dal Servizio di Polizia Postale e Comunicazioni hanno fornito riscontri ampiamente positivi consentendo di appurare il coinvolgimento di gran parte dei soggetti individuati. Nell'ambito dell'operazione sono stati arrestati un 22enne residenti nella provincia di Vicenza e un 47enne residente nella provincia di Alessandria. Al termine dell'attività è stato posto sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria un conspicuo numero di dispositivi informatici utilizzati dai soggetti per l'archiviazione e la veicolazione dei file d'immagine e video di natura pedopornografica.